È stata una mattinata interessantissima, abbiamo toccato temi di grandissima attualità, affrontato il tema del fisco e della tecnologia e quindi la tassazione dell'economia digitale grazie al contributo di esperienze diverse, dagli economisti, ai giuristi, agli accademici, ai policy maker e sicuramente sono questo tipo di incontri che favoriscono il dibattito e la ricerca di soluzioni adeguate.